Carnavalissima con il 2017, musicità! L'oro non è che un metallo. La limousine non è che una macchina. I diamanti sono solo pietre. La seta è solo seta. Non pretendo, vivi la vita vera. La vita vera è questo quello che adoro. J'adore, il nuovo parfum di Christian Porte. J'adore! Carnavalissima il 2017, pubblicità! Siamo alle solite. Se tu amassi me, almeno la metà di quanto ami questa cavolo di liga, la nostra relazione sarebbe perfetta. E che problema c'è? Prenditi cura di ciò che ami. Nuova biga a 9.950 euro e con finanziamento e superottamazione, tua a 8.950 euro oltre ore in rifinanziari. Prima rata nel 2018. Vieni in concessionaria, anche sabato e domenica. Cosa aspetti? Corri! Ho detto Corri! Carnavalissima il 2017, pubblicità! Sf плaconti! Ch ausori. Sfâ! Prenditi cura. Sfâ! Sfâ! Grazie a tutti. 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 E tu Fabio dove schiampi? E ora è il giorno. Tu potresti... E tu chi sei? E raga, che ne dite? E raga, che ne dite? Grazie a tutti. E adesso Nico tocca a te. E adesso Nico tocca a te. Anche tu, come si è la ricerca di un'idea semplice del giornale per il costume del ballo in maschera. Anche tu sei la ricerca di un'idea semplice del giornale per il costume del ballo in maschera? E poi, come si è la ricerca di un'idea semplice di un'idea semplice di un'idea semplice di un'idea.